Salve a tutti e benvenuti nel nonno episodio del mio let's play walkthrough di Halo Combat Evolved registrato in 4k e 60fps del pc. Nello scorso episodio avevamo affrontato il livello doppio tradimento e in questo giocheremo il livello Keys. Organizza un attacco contro una nave dei Covenant e porta in salvo il capitano. Esattamente perché finalmente scopriremo che fine ha fatto il capitano Keys. Andiamo subito a selezionare il livello, confermiamo le opzioni, difficoltà eroica e avviamo il livello Keys. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Vi anticipo che avevo provato a registrare questo livello qualche giorno fa ma la Master Chief Collection me lo buggava proprio all'inizio della cutscene. La rete dei Covenant è nel caos più totale. Da quanto capito il loro comando ha ordinato a tutte le navi di abbandonare Halo dopo aver trovato il Flood. Ma sono arrivati troppo tardi. I Flood hanno sopraffatto e disattivato questo incrociatore. I Covenant temono che i Flood riparino la nave e la usino per fuggire da Halo. Hanno inviato una squadra d'attacco per neutralizzare i Flood, riparare la nave e partire. Ho stabilito una connessione con l'interfaccia del capitano Keys. È vivo e gli impianti sono intatti. Ci sono interferenze con il reattore danneggiato dell'incrociatore. Ci avviciniamo il più possibile. Ah, ho capito. Le coordinate devono essere... Ok, scusa. Capo, non fare sciocchezze. Lasciami. Capitano. Capitano. L'ho perso. Ok. Non si è vagato fortunatamente. Quindi andiamo avanti. Qui abbiamo dei Flood che inseguono dei Covenant. Ovviamente. Di qua non c'è nulla a parte alcune granate e un'invisibilità che mi prendo volentieri. Ho sentito una doppietta. Mia, mia, mia la doppietta. Grazie. Me ne vado. Ciao, ciao. Via. Salve, forma portatrice. Io me ne voglio solamente andare con la mia doppietta. Cosa? Questo buco è stato causato da un esplosivo così potente da perforare lo scapo della nave. Rilevo solo forze di refrigerante. Dobbiamo continuare la nostra ricerca. Beh, ma a quanto pare non si può andare da nessun'altra parte se non saltare nel buco. E qui, raga, è horror puro. Bene. Prima morte del livello. Arrivarci qui con l'invisibilità è una cosa buona, eh. Sarebbe una cosa buona. Ah, via, chi è che mi attacca? Eh sì, volentieri. Eh, saltate tutti in aria, va. Pure tu. Infame di un'elite. Vediamo un po', eh. Io li vedo i punti rossi dietro. Io li vedo i punti rossi dietro. Infame di... di Flood. Però ogni tanto in questo livello bisogna andare avanti senza curarsi troppo dei nemici perché altrimenti qua si rimane all'infinito, quasi all'infinito essenzialmente. Ok, eliminati. Quelli che sparano dalle alture di Flood sono temibilissimi. Spengo un attimo la luce per farla ricaricare. Anche se così non si vedrà niente. Però mi serve. Ok, hanno ucciso tutti i Covenant. Sì. C'è poi completato, infatti. Vediamo un po'. Si erano trincerati dietro queste rocce i Covenant. Pur di provare a resistere. Grazie per le munizioni della doppietta. Altre munizioni della doppietta. Ottimo, così. Qui si va avanti. Però fate attenzione qui dietro, eh. È pieno zeppo di Flood, volevo dire. Voi tirate una bella granata e via. Però dietro ho anche degli altri Flood. Questo è un problema. Niente, qualcuno mi ha fatto saltare in aria. Per fortuna ho il checkpoint qui. Aia. Morite tutti, per favore. Grazie. Guarda lì come si buttano giù gli altri Flood. Dammi le munizioni per la doppietta, va. Che mi servono. La pistola ad Aghi, in Nii. Potrebbe servirmi dopo per un... Punto molto in particolare. Ma per adesso no. Scendiamo un attimo qua. Vediamo di eliminare i Flood che nascono da qui. Cioè non nascono i Flood da qui. Questi però sono davvero fastidiosi, eh. Devono essere eliminati. Eccoli, eccoli che arrivano. Con la pistola è un casino. Il Flood con la pistola è temibilissimo. Ora prima di andare avanti. Prepariamoci con le granate al plasma qua. E tiriamole. Ok, quella dovrebbe averli fatti saltare... Non dico tutti, ma quasi. Torno un attimo indietro. Per assicurarmi che... Nessuno mi prenda alle spalle. Ok. E si prosegue. Perfetto, checkpoint completato. Qui io cambio la mia... Arma. Dov'è? Con questa. Perfetto. Che è ottima contro le forme infettive dei Flood. Eccole. Vediamo un po', eh. Dobbiamo dirigerci verso l'ascensore della nave. Poi queste forme infettive le puliamo. Anche per scadere una torcia. Devo sbrigarmi ad uscire da questo posto. Buio. Da questo punicolo. Quante forme. Infatti è scaduto. Fortunatamente però siamo arrivati qui. Abbiamo Covenant che stanno combattendo contro Flood. Ma che preferiscono sparare a me, evidentemente. Guardali. Hunter si è proprio un rincretinito, guarda. Qui c'è anche un fucile di precisione. Che può essere molto utile in questi casi. Per eliminare loro. I due Hunter. I due pericolosissimi Hunter. Sempre se non vengono eliminati dai Flood direttamente. Ok, infatti. Distrutti le Flood. A questo punto mi riprendo il mio bel fucile d'assalto. E andiamo. Avrei potuto aspettare ulteriormente che i Flood li pulissero. Proviamo però ad andare noi. In caso, vabbè, perderemo. Ok. E noi andiamo avanti. Ma che mi spara? Da dove più che altro? Muoio? Forse no. Da qui arrivano un sacco di Flood. Granatina al plasma. Eccone che arrivano altri. Cercate sempre di far saltare le forme portatrici quando sono in mezzo agli altri Flood. Vi fanno un bel favore. Eliminandone un casino. Niente, sono morto. Non è stata un'ottima scelta quello che ho fatto qui. Facciamo così. Aspettiamo che i Covenant crepino da soli. O perlomeno che muoiano dai Flood. Io li aiuto facendogli un favore con gli Hunter. Se riesco a colpirli quando si girano magari. Eccolo lì. Uno e due. Perfetto. Andate Flood. Distruggete i Covenant. Vediamo se riescono. Vai. Con l'elite vi ho dato una mano io. Eh, probabilmente ora non hanno più molte chance. Lassù c'è quell'altro Flood. Che provo ad eliminare. Ma come vedete, anche i colpi perforanti del cecchino sono completamente inutili contro di loro. Sono letteralmente le spugne. Eccoli come si ammassano tutti là. Per eliminare Covenant. Covenant. Ole. Fuori pure lui. C'è ancora qualcuno, eh? Stanno resistendo là i Covenant. Ok. Si sono fermati. No, ce n'è ancora uno. Raga, perché vi fermate? Attaccate. Eccolo. Ok, vi ho dato una mano. Ridatemi ora la mia arma. Il mio bel fucile d'assalto. E andiamo. A tutte queste forme portatrici devono scoppiare. Grazie. Perché non va bene che ci siano così tante forme portatrici. Mi metto qui. Ed elimino tutta la marmaglia che arriva. Aia. Oh. Basta, eh? Ah, tu sei l'ultimo. Vieni qua. Bel guascone. Bene, così. Allora, qui abbiamo un kit in caso ci servisse. Ma no, perché abbiamo lasciato fare tutto il Covenant. Nel mio checkpoint, per favore, Alan. Grazie. E qui, di nuovo. Granata al plasma lì. Ecco fatto. Ed ora mi metto qui io. Venite fuori. Grazie. Vediamo in quanto riesco a tenerli a bada con questo. Mi dispiace che forse non si veda molto su YouTube. Ma in fase di editing mi metterò a schiarire molto l'immagine. Per renderla perlomeno visibile. Ne arrivano altri? Dai, forza, raga. Mi sto attirando con gli spari, con le lucine. Fate come le zanzare. Bravi. Andate sulle lucine. Guardali, guardali come arrivano appena sparo. Li vedo dal sensore, li vedo dalla minimappa. Dai, dai. Basta? Siete finiti? Ottimo. C'erano le forme effettive che, poverina, aspettavano di infettarmi. Eccoli che arrivano di nuovo. Niente, questi aspettavano proprio me. Non erano contenti, eh, se non mi facevo vedere. Facciamo che io mi rimetto qui sopra. E sparo tutti voi. Infami dei flood. Dai, venite fuori. Codardi. Fatevi trintare dal cannone. Guardali, guarda come ne arrivano altri. Potrebbe sembrare che sia uno spawn infinito. E effettivamente lo sembra. Ma, se non sbaglio, in Allo Combat Evolved non ci sono spawni infiniti. A parte proprio rarissime eccezioni che forse sono proprio in questo livello. Mi spawni infiniti dei covenant. Dei flood, volevo dire. Ovviamente covenant ammai. Aia. Niente, oh. Fai due passi, i flood ti assaltano. Non ti lasciano mezzo spazio per respirare. Intanto qui abbiamo un checkpoint, ottimo. Tu muori, grazie. Siamo per tornare sulla nave, eh. Siamo per tornare sulla nave dei covenant. Dove, perlomeno, si vedrà qualcosa. Però questo serviva a fare l'atmosfera horror, oltanto caro, il primo Allo. Che poi si sono praticamente completamente perse nei successivi. Potete morire, grazie. E ora andiamo giù. Ok, qui abbiamo un'altra schermaglia. Con i covenant che vengono decimati. Beh, c'è un covenant molto furbo. Che ha voluto attaccare una granata ad una forma portatrice. La forma portatrice ovviamente è andata contro di loro. E li ha uccisi tutti. Ovviamente era un grunt, quel covenant molto furbo. Tu puoi anche morire una seconda volta, grazie. Mentre quelli là in cima, si ammazzano molto bene con la pistola d'aghi. Ecco, tu crepa. Bene. Poi anche voi là in fondo, prendetevi un po' di aghi in faccia. Grazie. Vai, tu esplodi contro di me. C'era un altro là, e attenti. Perfetto. Mi riprendo ora la mia arma. E andiamo. Ho poche munizioni di questa. Eccoci. L'ascensore è presidiato dai Covenant, ovviamente. Però, i Flood li stanno attaccando. Vediamo se riescono a batterli di nuovo. Vedo un Elite che è volato. Bene. Qui la luce serve a poco, perché tanto sono distanti. Dai, dai, attaccate Flood. Portate l'attacco su un altro livello. Mandate su delle forme portatrici. Resistono, eh. I Covenant resistono. Ok, uno è sceso. Ha fatto la scelta sbagliata. Aia, che botta. Proviamo a salire noi ora. Proviamo a vedere se il terreno è fertile. In caso, una granatina, non se la risparmia nessuno, eh. Sì, sono morti tutti qui. Sono stati tutti buttati giù dai Flood. Noi ora dobbiamo tenere questa posizione per qualche secondo. Prima che parta il filmato. Perfetto. Da qui dovremmo accedere alla sala controllo della nave. E andiamo alla sala controllo. La sala che avevamo già anche visitato nel terzo episodio. Non riesco ad accedere agli schemi della nave. I dati in mio possesso indicano che qui si trova un hangar dei lisciati. Eccoci all'hangar. Qua, negli angoli. Il Flood stanno ammassando corpi. Grazie per le munizioni. Di nuovo, grazie per le munizioni. Aspetta, c'è accaduto anche... Ah no, è accaduto anche qualche forma di combattimento. E qualche forma portatrice. Aia, attenti eh. Oh, dietro ce l'ho pure. No, no, no. Mi sono andato a infoniare in un posto di merda. No, 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 no. No, qui dovevo baitare. Qui dovevo baitare. Ok, puliamo un attimo la zona qua. Ah, ok, così. Cioè, per gradire, no? Te ne buttano un altro. Ok, lasciamo che si pulisca la zona. Che forse ci dà un checkpoint più che altro. Perché solitamente se sei circondato dai nemici... Hmm. Là c'è un sovrascuro, tra l'altro. Non so se l'avete visto. Ehi tu, mi serve la doppietta. No, dov'è il Flood con la doppietta? Non c'è più il Flood con la doppietta. Hanno rubato la mia doppietta! Che infami. Tra l'altro qui si può scendere volendo. Può scendere e risparmiarci un po' di fatica, va? Scendiamo. Aia, non volevo fare questo, però. Non volevo perdere tutta questa vita. Andiamo a prendermi il sovrascudo, va? Questo è un livello molto tagliabile. È già corto di per sé. Ma è anche tagliabile, effettivamente. Ok, non succhiatemi il sovrascudo. Grazie. Tra l'altro, perché i Covenant ammassano i corpi? I Flood ammassano i corpi, secondo voi? C'è una spiegazione, perché lo fanno. Però mi sa che non la daranno in questo halo. Cioè, è intuibile da una cosa che si vedrà poco più avanti. Ma non lo farà. Non darà una spiegazione esplicita. Ora, io non ricordo se debba andare di qua, effettivamente. Ma quanto mi hanno disintegrato? E il Flood con le armi umane sono pericolosissimi. Ok, sì, bisogna andare di qua. Mi ricordo il buco. Il buco. Guardalo qui, il buco. Allora, nel buco io tirerò una bella granata al plasma. Così, per gradire. Sperando di innescare altre esplosioni. Esattamente, come sentite da quello che sta accadendo giù. Ecco fatto. Grazie per aver distrutto il mio sovrascudo. Te ne sarò per sempre grato. Puoi saltare in aria, grazie. Là ci sono dei Covenant che continuano a combattere contro il Flood. Checkpoint completato, grazie Halo. Potete esplodere. Bene. Ho preso anche delle nuove granate al plasma che attaccherò subito su quell'elite e pure sull'ite. Ok, non ce n'era bisogno di tirarne un'altra. Sono stati letteralmente disintegrati, poveretti. E qui, la cosa migliore è andare di qua, subito. Andare subito di qui. Perché continueranno a spawnare Flood in continuazione, vedete. Pure dall'alto arrivano. Quindi vi conviene proprio andare via. Eliminare quelli che vi seguono proprio a primo... a primo impatto. Ok, ho preso un checkpoint. Quindi a questo punto torno indietro e vedo di prendere delle munizioni della doppietta perché non le ho ed è un problema. Non è che spuona qualche Flood con una doppietta, per favore. Munizioni. Nessuna munizione, vero? Ho fatto questa cosa per niente, vero? No, aspettate. Ho sentito un inconfondibile sparo di una doppietta. Muori tu, per favore. Grazie. Dov'è la doppietta? Mi sembrava di aver sentita. Ho raccolto munizioni? No. No, dove l'hanno... dove l'hanno spegnita? Qui? No. Dannati Flood. Datemi munizioni della doppietta altrimenti questo livello sarà un incubo. Ok, altro checkpoint, vabbè. Perfetto, là ci sono degli elite. What? ma quanto male mi hanno fatto? Ma perché ci sono tutti questi elite? Ma da dove sono saltati fuori soprattutto? No, aspettate, aspettate. Guarda in là. Stanno combattendo tra di loro. controllo dal terzo livello. Ma dai! Come avete fatto a vedermi? Ti ho dato un ordine, è saltato. Muovete. Vabbè. Mi hanno disintegrato senza che io potessi fare nulla. Ok, vediamo. Adesso non sono più sponati quei Covenant. Strano. Ah, sono sponati ora. Per farci il trappolone, no? Giustamente. Giustamente. Dai, di spawn point di halo. Ma contro chi stanno combattendo? Ma perché continuano a sponare? Ma che problemi hanno? Beh, ma è ovvio che muoio, scusa, eh. Ma non ha senso questa cosa. Ma perché sponano? No, aspettate. Questa cosa non ha alcun senso. Non dovrebbe accadere, in teoria. C'è uno spawn infinito di Covenant. Se tu passi quella zona, spawnano. Prova a fare una corsa. Prova a fare semplicemente una corsa e andare via. Via. Via, 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 via. Ciao. E andare qui dentro. Che è la strada giusta per avanzare. Ma dai, grunt di merda con la tua manina schifosa. Volevo far saltare in aria le forme portatrici io, sinceramente. Ecco fatto. Per liberare la zona. Non ho più munizioni del fucile. Questo è un problema, eh. No, non venire verso di me, per favore. Sono morto, vero? Sto per morire. Non posso farmi colpire da loro quando non ho gli scudi. Doppiette? Doppietta! Sì! Doppietta. Uff. Seguiamo. Altri flood. giusto per gradire ormai che tanto. Altra doppietta. Questa la voglio volentieri. Grazie. Voi potete anche morire. Non mi servite. Perfetto. Ottimo kit di pronto soccorso. E tra l'altro, mentre noi siamo qui a farci truttare da quello con la doppietta infame, arrivano navi dei Covenant che non posso farvi vedere in questo momento perché altrimenti mi ucciderebbero i Flood. Devo prima eliminare loro. Guardate quanti sono. E effettivamente ci sarebbe stata bene una granata. Oh, le. Altri? No. Perfetto. Dove è la mia doppietta? L'ho volata via? Ne avevo sentito uno con la doppietta. Niente. Comunque, ci sono arrivati i Covenant tra le forze speciali. E là c'è quel cavolo di cannone che se riesco gli stico una granata addosso. Ce l'ho fatta? Sì. Vola giù. Scemo. Perfetto. Magari la doppietta è volata qui dentro. Nope. Proseguiamo allora. Trovare il Capitano. Eh sì. Bisogna assolutamente trovarlo. Avete finito di combattere tra di voi? Sì. Grazie, dammi le munizioni della doppietta. Bene, combattete contro di loro. Bravi, bravi, andate. Minchial, disintegrati. Altro che... potete andare contro gli altri per favore contro i Covenant? Grazie. State contro i Covenant. Guardalo, guarda come lo stanno assorbendo. Morirà, morirà con l'elitro, non ha più scudi. È spacciato. Ok, eliminiamo anche queste forme effettive. Prendiamoci altre granate al plasma, che mi fanno sempre comodo. Altre munizioni della doppietta, prego. Munizioni dell'ufficio d'assalto, sì, grazie. E dovremmo aver eliminato quasi tutti i flood di questa zona. Vediamo, eh. Ne arrivano altri, ovviamente, perché flood sono letteralmente infiniti. Però, abbiamo un buon setup di armi. Aia. Gente che resuscita. eliminiamo anche loro. Perfetto. C'è ancora un nemico? Sì? Lo vedo nella minimappa, eh. Ed ecco il capitano. nessun segno di vita umana è rilevato. Il capitano è uno di loro. i flood non devono lasciare questa mena. Sai cosa si aspettate. Cosa vorrebbe che facessi? È fatta. Ho il codice. Dobbiamo andare. Bene. E ora? Si fa così. Si apre la porta, si apre la porta dell'inferno e si lascia che i flood combattano contro le forze speciali dei covenant. Eliminandosi l'un l'altro. Mi sa che hanno ammazzato tutti i covenant? No, non credo, dai. Sono le forze speciali, sono più forti degli altri covenant. Stanno arrivando tutti verso di me, vero? Sì. Ma davvero i covenant sono durati così poco? Che pippe. No, guardali. No, ok. Crepa. Crepa. Belle queste forze speciali covenant, siete davvero tosti. Niente, ora si deve tornare all'hangar. Comunque io vorrei prendermi le mie munizioni di fucile a pompa che so che ci sono in giro, eh. Non mi fregate. Però non so letteralmente dove posso essere finito con tutte quelle esplosioni. guardo un po' negli angoli. se non lo trovo vado avanti. E non è che sto qui tre anni a cercare un fucile a pompa. Però fucile d'assalto? No, avrei bisogno del fucile a pompa. Niente da fare. Via. Si va. no di qua ma di qua. Qui abbiamo un altro chiettivo di pronto soccorso in caso ci servisse. Vediamo un po', eh. C'è il point completato. Un altro grunt morto, disintegrato, succhiato. Grazie per il fucile a pompa. E qui abbiamo forze speciali dei Covenant di nuovo. Vediamo se riesco a eliminarne qualcuno con le granate. Ce l'ho fatta, vero? Sono forze speciali per un motivo. Sono un po' più intelligenti del solito. Preso, forse l'ho preso. Sì, dovrei averlo preso. Quegli lì sono difficilissimi da eliminare senza l'adeguato Oh no, no, questo esplode. Senza l'adeguato arsenale. Ok, sono andato ad infoniarmi in un posto in cui non volevo andare. Devo solo andare ad eliminare quell'elite. Salve. Aia. Dovevi crepare. Ecco, qui si può semplicemente scendere così. Aspettiamo un po'. Purtroppo mi hanno visto. Se non mi avessero visto sarebbe stato più semplice. Però, eh, niente. eh, cacchio, mi hanno visto. Porca me. Porca merda. Se non mi avessero visto avrei potuto tirare una granata al plasma addosso e scappare così facilmente. Vabbè, andiamo, dai. Via. e abbiamo completato anche il livello Kiza. Nel prossimo episodio affronteremo il finale di Halo Combat Evolved. quindi rimanete iscritti a questo canale lasciate un bel mi piace se il video o la serie vi stanno piacendo io ovviamente metto in pausa. E che dire di questo livello? The Keys è un livello che da bambino non rigiocavo affatto perché ovviamente le vibes horror mi facevano paura soprattutto quelle fuori dalla nave dei Covenant dove non vedi quasi niente è un horror è quasi un horror puro perché letteralmente non vedi niente si è circondato da Flood che continuano a spawnare quasi all'infinito Covenant Flood una marea di nemici posti molto stretti jumpscare certe volte è letteralmente un horror ma che crescendo comunque questo livello l'ho rivalutato ho rivalutato molto in positivo perché è un livello prima di tutto corto ed è un grande punto a favore dato che i livelli di Halo Combat Evolved in generale sono molto lunghi molto ripetuti a caso senza alcun particolare motivo quindi è un livello corto è un livello molto tagliabile come avete visto anche nella parte finale mi sono buttato giù su due livelli e ho finito il livello senza dover fare di nuovo tutta la strada all'indietro presenta una varietà di nemici presenta molti scontri Covenant contro Flood in cui voi potete semplicemente o aspettare che si uccida una vicenda oppure andare a fare i rumble della situazione provare ad ammazzarli tutti voi o addirittura provare a scattaiolare via mentre combattono tra di loro quindi varietà di approcci avete molte armi l'arma principale ovviamente di questo livello è il fucile a pompa ma come vedete gli sviluppatori hanno messo molti flood con il fucile a pompa per permettervi di ricaricare le munizioni questa è una ottima cosa quindi questo livello in generale l'ho rivalutato in positivo lo ritengo forse uno dei migliori livelli di Halo Combat Evolved anche per la rivelazione del capitano insomma assorbito da questi Flood e come vedete si stava sviluppando una sorta di massa attorno a lui massa di Flood quindi cos'era quella cosa? lo scopriremo nel secondo capitolo di Halo sì lo scopriremo lì quindi detto ciò il video finisce qui ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti Douglas Showsphere è tutto al prossimo video